secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie visto il mio culo mi sono visto sai il mio culo Ma l'hungerù è giù! Ma hai cagato cazza Mi risocio solamente Devo andare Aiuto, non clippate Sto scherzando Sto scherzando Scherzo ragazzi Andate una richiesta amicizia qua Un attimo che faccio una flatulenza Con fantasia Guarda Scania Ma è partito l'hyptrend Non prima quando è tornato i bitti Cioè capite come funziona Cioè strano proprio Ma con me Cioè guardano poco Ah perché era solo tu prima Adesso Alexa accendi fulmine Ok Alexa accendi pioggia Ok Sto piaccendo che Tu fai un comico Ma che ha fatto Su suon Ma ho fatto il banno Che ha fatto su suonisio Che lo piazza è merda Ma tu l'hai trovato il suono Ma Che la puttana è non Non ho capito com'è Non c'è guida proprio Ma gira è la macchina Pronto Fox Allora dici a Martinez Che la radio Oh Oh Porco Dio Ma sei scemo Porca Madonna Porco Gesù Mi ha fatto Mi ha fatto sentire ora Mi ha fatto sentire ora Mi ha fatto sentire ora Grazie. Alexa, accendi schiuma. Alexa, accendi schiuma. Loro, in ambito RP sono il cartello. A te non ti conoscono. Io da galante, ti ho detto, questa è una brava persona, fidata, abbiamo fatto rapine, insieme, eccetera, e tutti sono già da varie. Quelle piccole armi, no? È un inizio per garantire il legame di fiducia fra, mette, cioè fra, mette e loro. Perché se noi le vendiamoci, ok, loro le vendono, poi quell'80%, piano piano... Eh, ma dicevo, non è il loro 80%, perché questo è in avviato per culo. Oh, aspetta, aspetta. Io non voglio fare, 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 basta. Eh, aspetta, aspetta. Faccio il che, babbo, lo fate voi. Eh, ok, babbo, allora, diciamo. Come ho fatto tu e galante, eh? Eh, aspetta, mi fai finire parla. Dicevo, su quel milione che tu guadagni con le armi... L'hai chiamato galante? Galante, chi cazzo è su galante? Ti fai capito, galante. Grazie per il pito, bello. Tu le armi, allora, devi ragionare, poi se ti dai l'80% al loco... Tu le armi, non le vieni a capisciare. Eh, non c'è sfugato l'armi. Eh, bussà, la paiole, tu vuoi sfugato l'armi. Oh, Antoo, sei scemo. Siamo in live, Antoo. No, ma che c'è, che c'è capito? Ti sfugato il palo, questo. Ti fanno massaggio. Subito pensate tranquillo. Chi c'faccia? Sì, scemo. Sì, allora, c'è la città musa. Fai una sfugata... Mannaggia a Gesù Cristo. Che la puttane nonno. Mannaggia che la puttane nonno da veramente parte 2. Porco Dio. C'è Gesù Cristo. Non c'è niente. Cos'è? Cos'è? Ah, sì. Mi avevano detto che mandavano un'allerta. Mannaggia che la puttane mamma mi ha fatto cagare sotto. In campagna mandavano un'allerta. Sì, sì, tranquillo. Mannaggia che la puttane mamma mi ha fatto cagare sotto. Invia un punto di... Che cazzo ne so. Dove che cazzo ho cliccato mo? Eh sì, a metodo giorno doveva partire l'allerta. L'ho letto prima. Mannaggia la puttana focca. No. 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 No.